14.10 Friday Afternoon Game over No, Pistop Game over Off Sylvia Escort Style Brain off on the Comodine E secondo te sto male? Un assicuratore? De livello? E Friday Afternoon Non te chiama? Non te disturba? Te rispetta Eh, a meno che Se chiami Rivo Presente Però Game over Anche perché poi Abbiamo maestranze Maestranze De livello E che in sede sociale 2 La succursale Uh Che pranzetto Cosa abbiamo? Leggera alla crema oggi? Bibbitone del presidente? No Scottex Il pietro di carta E il caffè Che è una giovega Questi Io volevo di più Questo qua Itlerino Lunedì comincia Itlerino Comincia a far corse di formazione Tecniche e psicologia di India Che vale Che vale? Fare forza? Eh? Questo non fa i tecnici Mi nasce E allora Friday Afternoon Un ambiente Molto molto Cool Volevo di cool Io me ne vado Voi Continuate a lavorare Chiudete l'azienda Portate a casa le chiavi Cervelo swap E se vedete un 1D Da un 2D Tecniche e psicologiche di vendita Chietro rino Chietro rino